Contro Perkz, che sarebbe Perkz? Ma Perkz gioca in NA, non dire le WC è Con Sub Knight, pure la Sub Knight dobbiamo fare, oh che schifo Mi devo tryhardare, non devo fare la Sub Knight Hello Ehi patato No, ma stasera la faccio la Sub Knight La zona del serpente è in effetti broken, questo game Però chi la può brillare? Eppure ad oltre Allora Non cazzo in it, Mokai Andiamo a fare i zanchino bot dopo A livello 3 Sempre forte il gunk bot al 3 Come fa il straper perkz che gioca in NA? Davvero lui, ma no scusa non è NA Ah ancora in Europa Pensavo fosse già lì No, ma no scusa non è Perfetto il passo, cerco di superarlo. Ma perchè non mi aspetti Diana, mannagina? Bisogna ci addintare. Cards up. La loro comp è davvero forte in teamfight, hanno un miliardo di scudi. Ti prego, ti treggia, bro. Ah, però è un bel gas, mi ha spiegato. Uff, sarà close. Era veramente, veramente vicino a quella, caspita. Io ho praticamente colpito il piedino, secondo me. Secondo me il piedino io l'ho toccato. Verrei bar. Ok. Voso. Vale. Vale. Va bene. Vosso che il piede, non lo fa bene. Ehi malata. Ok. Scena è arrivata addirittura a piedi Ma possiamo smetterla di federe per un secondo In questo game per favore Che disagio ragazzi No 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 Ah Un po' di scudi mi pare Questo game è già bello che doom ragazzi C'è Garen Top che sta la scilla C'è l'Hulu hanno la comp migliore Ah mio dio Troppo tilt ragazzi Troppo tilt Hello La montagna dinanzi a me non è sempre alta Non è sempre una montagna Io non penso che sia cancabile mid C'è la Garen Top che ci mandano off Quanto dovrebbero fightare? Strano comunque Abbiamo preso tutte le sams di Kaisa Non hanno molti di scena Se non approfittano di questa finestra Non riusciranno mai a trovare l'uccisione Il popolo cerca una forza che già mi appartiene Il destino è la mia C'è la mia Aspetta la mia Garen Ulti di Shen ci fightano e ci ammazzano questi Poi anche c'è l'Ulti di Shen Volevo provarci ma lo devo fare prima lo sapevo Vediamo 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 E' dura, è dura Guarda sembra favor Un altro fight boomed No, non ci sta per niente Ho perso anche Red ho perso, mannaggia Ho perso anche Red ho perso, mannaggia Non ci arrendiamo Il drago lo dovremmo contestare ma non so che possiamo Non ci arrendiamo Cosa? Oh grazie Mi ha trovato di sempre il compito Era forse un po' troppo questa Caspita l'ha grabato Voglio andare su Lulu La nostra Diana Oh Hai cringe Mamma mia ragazzi Mi giuro mi sto sentendo male Tra due secondi Chiudo la live L'unica rage quitta era la live L'unica rage quitta era la live L'unica rage quitta era la live La tua morte Racconta chi sei La tua morte Sì Sì L'arte della guerra è sentire il battito del proprio amore Sapere come essere vivi Ehm... Non ce la fanno a fare le drag Wait, questo non è male Nooo, si è stampato uno di vita Ok, non si è salvato, però non abbiamo fatto il break Devo fare per forza il Serpent, sì, me ne sono accorto Miseriaccia Nooo 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 Non abbiamo molti ultimi Non so se è il caso di fightare Per me no Per me i fight li perdiamo No Non c'è nemmeno il drag Per cui dobbiamo fightare Ok Questo era un buon fight Questo era un buon fight Ok se il mondo si muove il cielo è immobile hanno 16 miliardi di shield si non so se me lo lascia maledetta forziamo l'herald mi servono se no vado di blackfeaver prima grazie per il sub grazie Kama del sub sta per scadere farò a tempo datemi una mano che mi scade sto robo 10 secondi got it vogliamo andare a fare zona del serpente dunque perché poi blackfeaver shane è sempre bilanciato nei trade con gli auto ho un'idea ho un'idea brillante eh no non ve la spoilero mica non è per il game l'idea brillante però siamo colti tra darkine e incarnazioni ma nonostante ciò triunfaremo what dobbiamo fare vuoi fare rispettato mercure mi sa allora io le raldineo ce l'ho sono a di a di a di però anche i tabby sono forti ragazzi boh tabby o mercure avreste fatto voi se utilizziamo i sapling i fight sono easy 600 danni si è beccato quello oddio ma li devastiamo a di a di a di a di Sì, sì. L'herald. Ragazzi, come se mi dimenticassi dell'herald. È meglio, no, adesso? Perché adesso facciamo herald più baron insieme. Herald più baron insieme, mid, e si va più 3 del game. Sai cosa dovrebbero fare? Dovrebbero fare il recall ancora più veloce. Se hai baron e herald insieme, recall invece di 4 e 2 secondi. Questa idea che mi è venuta in mente del baron più herald insieme. E potete questi idee, adesso non è come il nostro. Oh, scusate le vostre recchie, mi dispiace assai, veramente. Eh, mi è successo. Il danno è subito con la Kai, sì. Ma perché faccio tutti questi anni? Ma vedete i anni che faccio? Non è ok. Non penso sia ok. Merito della Zanna, per caso. Ah, quindi è il serpente più l'item di Ashe che fa infiggere più danni, perché è incredibile il danno. Grazie. Grazie.